E' un mento, erano noi. Ficca, sono veramente degli anime. Piccato è l'anima in pena che ha attaccato la carogna addosso altro. Ma no, perché è comodi, sono entrati nella casetta, mi vedo, stanno facendo... E che cazzo devo fare? Sono di nuovo, vabbè, è toccato il frutto. Ma se mi puoi fare troppo fuori strada, perché sono troppo fuori strada. E mi fai far poco, perché mi fai far poco. Sì. Ma io ho una spuntatina! Se conoscesti mi fai fare una spuntatina, non come la mia farrucchiera che ne taglia due metri. Ho preso le misure, sincro. Non ti ferma più.